Nel calcio di oggi conta esclusivamente il risultato, ad ascoltare Moreno Longo, allenatore del Bari dopo il successo per 3-2 della sua squadra sul Cittadella, non solo. I tre punti valgono la sesta piazza in solitaria e il dodicesimo risultato utile di fila, ma il calo di tensione che ha permesso ai Veneti di tornare in partita con due gol a inizio ripresa dopo il 3-0 all'intervallo non è proprio piaciuto. Ci portiamo a casa il risultato che oggi sicuramente è la cosa più importante, tolto questi aspetti positivi che vi ho detto, perché per il resto è una gara che non mi è piaciuta, non era il solito Bari, non era il solito Bari fluido, con dinamismo, con idee, con partecipazione da parte di tutti e su questo naturalmente dobbiamo andare a lavorare perché se vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo per forza di cose crescere sotto questo tipo di aspetti. Questa volta il risultato non alimenta rimpianti come già accaduto in stagione. Il Bari ha infatti perso ben 11 punti da situazioni di vantaggio, se in casa, in particolare nel secondo tempo la squadra cala di ritmo per Longo un aspetto mentale più che fisico. Non credo che sia un problema di condizione fisica, credo piuttosto che sia, come ce lo siamo detti, un problema di leadership che non è dato a volte dall'esperienza ma è dato proprio dalla caratterialità dei giocatori. Puoi avere anche 300 partite e non avere leadership per guidare, per trascinare gli altri. Quindi in questo dobbiamo iniziare innanzitutto a trascinare se stessi nello stare in maniera positiva dentro le partite per poi naturalmente andare a cercare anche di coinvolgere gli altri. Di certo il bicchiere è più che mezzo pieno. Alle spalle del Bari in classifica oggi ci sono squadre che hanno investito molto di più come Palermo e Sampdoria e il quarto posto è a soli due punti. Chiudere prima le partite diventa allora l'input. Anche contro il Cittadella, Falletti e Soci sono stati poco decisi nelle occasioni per il potenziale 4-2. L'allenatore smorza il tutto con il sorriso. Le partite precedenti mi sono arrabbiato molto perché non abbiamo chiuso la partita, non abbiamo fatto dei gol perché non ci siamo passati la palla. E adesso secondo me era il momento di tirare e ce la siamo passata. Quindi dobbiamo trovare la via di mezzo. Spero che alla prossima facciano la scelta giusta. Spero che alla prossima facciano la scelta giusta.